ciao sono qui per il mio piccolo secondo video e sto prendendo confidenza con il mezzo perché io sono antitecnologica quindi questa idea mi viene solo per in qualche modo dare voce a quelle che sono le mie istanze interne che soprattutto riguardano il mondo della scrittura e quindi proprio che secondo me scrivere qualcosa che ti tocca dentro e riesce in qualche modo a farti esplorare dei territori di te che se non rimanerebbero inesplorati questo lo sto facendo molto con il corso di scrittura autobiografica con l'autrice rossanna campo che è un'autrice che a parte invito a leggere perché è spassosissima divertentissima in molti suoi romanzi diciamo all'inizio della sua carriera ma poi anche in seguito segue un filone che secondo me unisce l'allegria e la gioia di vivere a quelli che sono anche i dolori più sacri e questo lei cerca di riportarlo anche nel corso che ci fa con degli esercizi che sono densi di luce e comunque di vari aspetti che vanno a toccare vari aspetti dell'animo umano e noi che siamo tutte donne in questo corso chiamato apposta dei quaderni proibiti anche perché è vero che da questi scritti vengono fuori delle cose che ci appartengono anche molto intime la cosa bella che tutto è trattato con immenso tatto da parte di questa autrice che per me è stato bellissimo conoscere dal vivo perché l'ho sempre letta e mi ha sempre entusiasmato molte mie amiche mi hanno regalato dei suoi libri poi diciamo che è stato c'è sempre legato un filo poi conoscerla per me diciamo è stato quasi una cosa anche un po' surreale ma molto 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 bella e che ha contraddistinto questo mio periodo e in più come vi dicevo nel primo video faccio questo laboratorio di scrittura al centro di urna ci sono questi ragazzi diciamo particolari e nel senso speciali che mi danno tantissimo con i loro scritti con ciò che scrivono io cerco di lavorare molto con loro sulla fantasia infatti scrivono anche attraverso il ricorso di delle carte molto belle che vi invito a comprare se non avete che sono le inventa favole che sono delle carte che assomigliano quasi ai tarocchi però in realtà hanno la funzione di creare storie favole e ragazzi io le ho comprate in una libreria della mia città io sono di teramo questa libreria empatia aveva queste carte che mi hanno da subito stuzzicato la fantasia e in effetti mi sono state utilissime poi con i ragazzi del centro che quando non le porto per più di un mese mi chiedono di rifare le inventa favole e quindi questo in soldoni la mia vita e il mio rapporto con la scrittura nasco come poetessa anche se mi sembra una parola grande comunque scrivo in versi a volte dico che scrivo in versi proprio per pigrizia in quanto scrivere un testo più lungo mi sembra a livello proprio di impegno molto più difficile quindi diciamo che la scelta del verso è quasi un scelto per risparmiare una scelta per risparmiare energie però mi piace anche il verso proprio perché riesce a racchiudere in brevi spazi di tempo tante cose quindi è come scattare una fotografia in fondo scrivere in versi invece la prosa è è qualcosa di diverso che sto affrontando diciamo ora e non è facilissimo districarsi negli infiniti territori che ci sono della scrittura ma è molto bello la campo ci dà anche diversi riferimenti bibliografici durante il corso prima fra tutte virginia wolf prenderei un po' a esempio di una donna che ha fatto della scrittura alla fine della sua vita insomma io alla fine fine corso ho portato queste spillette di virginia wolf fatto da un mio amico antonio masci che inoltre ha una casa editrice indipendente appena nata molto particolare che è la fake of press sempre qui a teramo e quindi che ci ha fatto queste spellette molto belle di virginia wolf diciamo che è bello anche vedere quante donne si sono impegnate ed hanno dato il massimo nella scrittura come quindi questo territorio della scrittura non sia solo diciamo una priorità maschile ma anche femminile diciamo e quindi come molte donne si sono raccontate attraverso le parole e quindi per me raccontarsi ma poi in generale raccontarsi al di là se sei uomo o donna proprio mettere su foglio mettere su su carta i propri pensieri e qualcosa a parte di catartico e anche terapeutico ma qualcosa che può aprirti un canale dove tu puoi osservare meglio ciò che hai dentro e questo è anche quello che cerco di fare al centro diurno ovviamente gli esercizi sono che faccio al centro cercano sempre di tener conto delle capacità di ognuno di loro però devo dire che è noto molta ricettività da parte dei ragazzi e quindi a ogni stimolo danno una risposta più delle volte molto fantasiosa a quello che io propongo comunque tutto questo per dire che questo canale che proprio ho voluto chiamare penne arcobaleno a parte per una mia diciamo vicinanza a quelli che sono gli arcobaleni soprattutto che nascono dopo la pioggia e quindi perché molte volte proprio scrivere qualcosa che viene fuori anche da grandi dolori sottostanti alla scrittura che ci sono e da questo dolore si può creare molte volte dei veri e propri arcobaleni d'immagini e quindi far venire a galla quello che abbiamo di più forte dentro e quindi buona scrittura a chi vuole scrivere a chi vuole cimentarsi nella scrittura dico che ecco per esempio io sto seguendo questo laboratorio con Rossanna Campo e per me è utilissimo per migliorare e stringere ancora più forte un patto con me stessa un patto che io definirei di luce con quella che è poi la mia istanza intima più grande che è proprio quello con la scrittura e quindi cercherò di raccontare anche tramite questo mezzo che è tecnologico diciamo quindi in qualche modo anche se ho tutti i vari social e sono quasi dipendente dai social però diciamo sono anche nello stesso tempo antitecnologica e soprattutto penso che la scrittura sia qualcosa che va oltre diciamo quello che può essere un medium tecnologico però se può essere di spunto e se in qualche modo posso raccontarmi va comunque bene vi saluto